anche se un pochettino scappato via perché avevo un segnale long intraday poco prima della diretta ho messo i livelli li lascio uguali sperando in un in un piccolo ritracciamento che me li vada ad eseguire ed è un long da 32.650 con 225 punti di stop e di target quindi con lo stop vado a 32 4 e 25 e sono giusto giusto sotto il minimo di venerdì di 4 tic di 20 punti con il target invece vado a finire a 32 mila 8 e 75 che sono rispetto a venerdì un nuovo massimo di 70 punti sulla posizione ci sta perché il fustimib è molto direzionale molto trend follower quando prende una direzione la mantiene e con poche oscillazioni con ritracciamenti piccoli c'è tira dritto al rialzo ok per dirla in in parole povere e quindi è giusto visto che siamo parecchio tirati al rialzo già già da tempo avere uno stop che è subito sotto i minimi dell'ultima giornata rialzista che è stata quella di venerdì perché se va lì sotto in chiusura di giornata probabilmente il trend cambia e si gira al ribasso di breve periodo per un target i massimi rispetto a venerdì perché qua ogni giorno se sale il fustimib ogni giorno fa nuovi massimi e ogni giorno fa minimi più alti del precedente quindi ripeto quando sale sale con poche oscillazioni con pochi ritracciamenti magari piano magari veloce però sale andando dritto senza una come posso dire oscillatorietà ampia come un dax come strumenti un po più un po più volatili un po più nervosi come il nasdaq anche per esempio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!